Ed eccoci su Rete8 presenti ogni giorno con le grandi ricette create dai nostri chef abruzzesi E oggi veramente una bellissima ricetta del nostro chef Marco Caldora Ricetta che ha presentato anche in occasione delle stagioni del mare in inverno Quindi una ricetta che parla di territorio, che parla della stagione invernale del mare e della terra Perché ci sono veramente gli ingredienti che rappresentano l'inverno in Abruzzo Soprattutto l'inverno del mare È vero, l'inverno del mare, sì 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 Allora presentaci Sì, noi facciamo, qua facciamo, usiamo, in questo piatto abbiamo due presidi slow food Uno è il miele di Millefiori di Tornareccio Che è un miele che viene raccolto a Pesco Costanzo Quindi parliamo dell'interno abruzzese Che mi fa ridere la battuta Che il mio amico Luca, che è questa azienda che produce questo miele Mi fa ridere quando mi dice, là abbiamo un grosso problema E qual è il suo problema? È il problema dell'orso E poi mi sta a pensare, ma che c'è l'orso? È un ghiotto di miele E gli vado ad aprire le case E mi viene, sai con i bambini, tu me ne sai qualcosa Poi a me con i miei figli, quei Winniepuss, te cose, sempre con sto miele E quindi mi faceva ridere sta cosa Quindi abbiamo un presidio slow food E ce n'è un altro anche E poi ce n'è un altro che il peperone dolce di Altino Che è veramente una cosa meravigliosa Quindi sono due ingredienti importanti Una cosa che vi dico, infatti, anche se adesso vediamo queste cose Può sembrare oddio, una parola fa questo Invece no È una ricetta che si fa veramente con 15 minuti Con 15 minuti riusciamo a fare questo piatto anche a casa Perché abbiamo veramente tre ingredienti principali Cioè tre elementi, non tre ingredienti Allora abbiamo questo trancio di tonno che andrà solamente scottato Poi abbiamo la maionese che si fa veramente con tre minuti Sì, con tre minuti Potete anche rivedere, in questo caso io ce l'ho già fatta Ma se guardiamo qualche puntata scorsa L'abbiamo fatta con le fave, l'abbiamo fatta con il minore di seppia Cioè uovo, olio, aceto Olio, uovo e aceto Peperone, frullatore immersione E pimer E quindi è una ricetta che si fa in tre minuti E finocchi e arancia non c'è bisogno che vi spieghiamo come si fa Perché credo che insomma La classica insalata La facciamo tutti Facciamo tutti quanti a casa E poi E un po' di cipolla, questa è marinata o in agrodolce o marinata Se l'abbiamo, altrimenti se vogliamo far veloce possiamo anche non metterla E risparmiamo tempo Esattamente Ok? Tutto qua E allora, let's go chef Qua abbiamo messo, per laccare il tonno C'è un tonno laccato al miele Che verrà scottato Abbiamo messo olio e miele Col pimer l'abbiamo frullato L'abbiamo emulsionato col pimer Ok Perfetto Qua invece, in un altro ciotolino abbiamo messo sempre un po' d'olio E una scorzetta di arancia L'arancia che abbiamo usato per i finocchi L'abbiamo messo dentro il bicchiere da pimer L'abbiamo frullato lo stesso Ci serve per il condimento finale Quindi olio e arancia Olio e scorza di arancia Scorza di arancia Poi qui siamo lungo la costa di Trabocchi Ci sono veramente delle arance eccezionali E poi anche un modo per non buttare via la scorza Perché utilizziamo la parte interna Quindi la polpa dell'arancia Per condire la nostra insalata di finocchi E poi rimane questa scorza Che inevitabilmente magari andremo a buttare Invece no In questa ricetta la recuperiamo Non bucchiamo niente Che poi potrebbe essere anche recuperata diversamente Ma sì Basterebbe farla seccare in forno Fare quella polverina E metterla da parte Ma farci un infuso Farci una tisana Farci tante cose L'importante è che siano arance non trattate Esattamente Perché poi Ebbè è normale Ebbè è normale Allora È normale Ma noi dobbiamo ricordarlo sempre Bocchiamo il tonnetto L'abbiamo ricavato proprio al lingottino Con gli scarti che facciamo Senza che Come diciamo poco fa Non vanno buttati Ci possiamo fare la pasta Una matriciana Ci possiamo fare una matriciana di tonno Ti esce una meraviglia Sì E possiamo fare un arrosticino di tonno Quella mi è rimasta in pressa La prima volta che l'ho mangiata qui La matriciana di tonno è una cosa Quella e poi un altro must Qui da Caldora Sono i paccheri con gli scampi Qualcosa di meraviglioso Siete bravi bravi chef Grazie Che sono una vostra fan Sono di parte Ma sono dichiaratamente di parte Perché insomma Lo meritate Grazie Grazie tante Ecco qua Quindi andiamo Il nostro lingottino di tonno Lo andiamo con miele E olio extravergine Lo andiamo a laccare Ecco Lo andiamo a Con un pennellino Proprio a fare questo lavoretto Quindi adesso andiamo a scottarlo Giusto? Sì Lo chiudiamo con un po' Con un foglio di carta Di carta forno Ah Quindi lo dobbiamo avvolgere Lo chiudiamo proprio Così in questa maniera E lo scottiamo con la carta? Sì 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 Con la carta Perché questo Non deve avere contatto diretto Con il fuoco Ecco qua Io ho avuto la fortuna Di assaggiare questo piatto Perché quando è stato presentato Avevo la fortuna Di essere in giuria Devo dire Tutti i piatti meravigliosi E questo era veramente Veramente Buonissimo Buono 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 Delicato Leggero Parla del nostro territorio Veramente non manca nulla Perfetto Quindi abbiamo chiuso Il nostro flettino di tonno Un filo d'olio Giusto per tenere la padella Ben calda E mettiamo in padella Ok Ecco qua Conta fino a 20 Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove E dieci E dieci Dieci 9 Al contrario Otto Sette Sei Dai contati Cinque Quattro Tre Due Uno E zero Si gira E giriamo E facciamo Quindi abbiamo bisogno Di un paio di minuti Per fare Due Quattro Sei Neanche otto minuti E quindi potremmo anche fare Per recuperare del tempo Che la prima operazione Che facciamo è questa Nel frattempo Facciamo la maionese Sì Nel frattempo Facciamo la maionese Con il bicchiere da pimmer L'uovo Mettiamo Mettiamo Bicchiere da pimmer Mettiamo l'uovo Mettiamo i 200 grammi di olio Troverete anche poi Una specifica finale Dopodiché Un cucchiaio di aceto Un pizzico di sale Prendiamo il pimmer Mettiamo Proprio fin giù Fino al fondo Comunque questa la fatta Federica Non l'hai fatta Tu no Non so se tu la sai fare Vabbè Comunque I documenti parlano Quindi lo so fare pure io Quindi mettiamo giù Un minuto Emulsiamo per un minuto E è fatta È fatta la nostra maionese Dove abbiamo aggiunto In giro Dove abbiamo aggiunto La La polvere di peperoni dolci di Altino Quindi abbiamo una maionese Che bella Guardate che bella E poi insomma Non solo colore Ma ha anche tanto gusto Perché il peperone dolce di Altino Beh sì Veramente conferisce ai piatti Un aroma È anche un colore Sì È uno dei prodotti Se io avessi un ristorante Non potrei fare a meno di questo prodotto È fondamentale Sia d'estate che d'inverno È un ingrediente fondamentale Perché aggiusta tutti i piatti E sta bene Sì Quasi Quasi Con il pesce sta bene Con la carne sta bene Con i legumi quanto sta bene Uno dei miei piatti forti È Il Passa con i tondini del tavo Ah sì E le peperone Sì sì Notevole Semplice ma buona Semplicissimo Che dici chef ci siamo? Sì sì ci siamo Questa cultura alternativa Mi intriga parecchio Sai? Però adesso non vedo l'ora Di vederti montare il piatto Vedo che Eh? A livello di Come si dice? Di essere un fachiro Mi batti Perché anche io Prendo le cose bollenti Ah noi La nostra abitudine Sai quante volte La domenica Durante Quando durante il servizio C'è sempre C'è sempre fretta Addirittura Cacciamo Quante volte Cacciamo dal forno Le cose No Da quale ancora riesco a farlo Anche se comunque L'istinto Sempre Eccoci qua ragazzi Guarda Eccola Che bella Perché in questo modo Praticamente Cioè Ce l'abbiamo scottato Sì E poi rimane anche Tutta la laccatura Non si perde Ma che bello A questo punto Andiamo a montare Il nostro Non vedo l'ora Quindi fondo del piatto Fondo del piatto Diamo una spennellata Di miele In questa maniera Ti ho spostato Il piatto Per metterlo A favore Del nostro Sì È fatto bene Operatore Antonio Quindi dobbiamo Tagliarlo Un po' In diagonale Giusto Tre fettine Che seguiamo La Seguiamo La La nervatura Ovviamente Deve rimanere crudo All'interno Deve essere così E ricordiamo Che il pesce Però deve essere Sempre abbattuto Deve essere sempre abbattuto Quindi non dimentichiamo Questa cosa Ora lo puoi riavvicinare Chef Tanto hai già fatto Le fette Cominciamo a montare Il piatto In questa maniera Mettiamo Quattro fettine Sì Pizzico di sale Poi prendiamo La nostra insalata Voila Posto i finocchi Così Con dei pezzettini Di arance Che si vedono La cipolla In agrodolce Che devo dire Ci sta veramente bene Perché poi Tondo e cipolla Che lo diciamo a fare Sì Qua abbiamo un sacco Di gusti Qua abbiamo Abbiamo il dolce Abbiamo l'amaro L'agrumato L'agrumato Sarà che a me piace tantissimo Adoro l'agrumato Io Questa è la salsina Che è per il condimento Dove ripeto Abbiamo olio extravergine d'oliva E abbiamo Le scorze di E devo dire Che questa dà Veramente un gusto Incredibile al piatto Chef Veramente Sì Qua abbiamo L'amaro Un tocco di classe E un pochino amarogno Ma sta salsa Con il dolce del miele Quindi è tutta Sta benissimo E poi La regina Eccolo qua Questa è per la nostra maionese Al peperoni dolci d'altina Che eleganza Beh io Non esagero Dicendo che questo piatto È veramente un capolavoro Perché ho avuto anche modo Di assaggiarlo Vi posso assicurare Che è facilissimo Da fare Ovviamente Dobbiamo avere Una materia prima Eccellente Perché non si può pensare Di fare un buon piatto Senza una materia prima Del genere Però devo dire Che gli accostamenti Che hai pensato Chef Sono veramente Perfetti Secondo me È un piatto realizzato Realmente In dieci minuti In dieci minuti Quindi insomma Provate a rifarlo E poi scriveteci Grazie Chef Buona giornata E grazie per essere stati Insieme a noi Ci vediamo domani Il peperoncino Oltre a contenere La capsaicina Che è un sedativo naturale Contiene anche Carotenoidi Che creano Un ombrello naturale Contro i raggi UV Ciao Ciao Ciao